Non entriamo in questa cosa, Cordoba, abbiamo messo assegnato a tavolino, ambasciatore, un portabella. Vedetevi il triunfo, no? Cordoba, lei è un grande campione, non posso pensare che senta suo il quattordicesimo sceletto. Assolutamente sì, perché siamo arrivati al terzo posto con tutta l'onestà che si deve giocare. A 15 punti. A 15 punti. E il giudice sportivo ha detto che non eravate affatto gli onesti, ma che era prescritto il reato. Lo dice la giustizia e per me conta quello, basta. Appunto, la giustizia ha detto questo, che era prescritto il reato. Lo scudetto ce l'ho a casa, bello, e me lo tengo stretto. Se lei si accontenta di uno scudetto di merda e di cartone, io che ci posso fare? Che ci posso fare, mi perdona. No, ma lei è un grande campione, Cordoba. Non capisco cosa se ne faccia di quello scudetto. Mi sta chiedendo, io me lo tengo stretto. Per carità. È un mio sentimento. Per carità. Allora, Cordoba, Cordoba non c'entra niente. Io ho lottato, quell'anno, ho lottato come tutti gli altri per arrivare al terzo posto. E siete arrivati a 15 punti. Poi è stato assegnato a noi con grande giustizia. Per quello che abbiamo fatto in campo. E basta. Tolto ad altri che non hanno fatto sportivamente. Ma non dica così, Cordoba. Ma lei è un grande atleta. Ma così, ma la storia non va di mezzo di cappello. Allora, questo è il problema di tutti adesso. Perché dimentichiamo la storia, i fatti della storia. Io ho tanto di cappello alla giuvedì. Come ha detto Giuliani. Campiero, però scusate. Il campionato era irreprensibile. A me di parlare di questa storia di anni fa, però non prega niente. Però se hai parlato tu, devi parlare anche a Cordoba. Per la giuvedì di questo momento, che ha fatto una striscia incredibile. Prima non l'ho detto, ma si è parlato di Conte, di Allegri. Ma parliamo dei giocatori, caspita. I giocatori che in un momento così difficile sono riusciti a rivaltare la situazione. è qualcosa di spettacolare. Ma parliamo di questo, della parte sportiva. Non entriamo nei temi cartone, no cartone, scudetto, no scudetto. Godetevi questi cinque scudetti, che vi lo siete meritati, uno per uno. E basta. Però io posso capire una cosa. Io vorrei andare avanti.